Un saluto agli amici del Mostardino, siamo qui con Silvia Bassoli, centrale della TexCart, città del Volley Carpi. Silvia, una partita difficile, bella per me che l'ho commentata, bella per chi ha assistito, ma comunque faticosa per voi in campo perché è giocata per quattro set punto a punto. Sì, è stata una partita tirata, infatti tutti i set ci siamo trovati a combattere punto a punto fino alla fine. Come hai detto tu, bella per chi l'ha vista, ma secondo me è stata molto bella anche per chi l'ha giocata. È stata una partita emozionante, dove ci sono le difficoltà, ma è proprio bello per questo. Beh, diciamo che è sicuramente una soddisfazione maggiore aver portato a casa una partita così, che ne vincere è facile. Sì, certo, c'è più soddisfazione, una partita combattuta e soprattutto ci serviva dopo l'ultima sconfitta a Montecchio, ci serviva noi moralmente. All'inizio c'era qualche strascico di questa sconfitta, avete avuto un attimo le gambe che tremavano all'inizio partita, quando siete state poi soprattutto più in difficoltà nel primo set? Sì, un po' tutti i set siamo partite, leggermente in svantaggio, ma poi abbiamo recuperato e ce l'abbiamo fatta. Contente. Era, diciamo, ai fini della classifica, aspettando il risultato della sfida tra Montecchio e Al Seno, era necessario portare a casa anche questi tre punti, perché anche solo una vittoria al tie-break, cedendo un punto, sarebbe potuto essere devastante per l'eventuale primo posto. Sì, in seguito alla sconfitta a Montecchio abbiamo perso 3-0, non abbiamo portato a casa punti, quindi adesso è molto importante non perdere punti, quindi cercare di prenderli tutti e tre sempre perché ci servono. Siamo qui con coach Simone Pisa. Simone, ne parlavamo con Silvia, una partita emozionante per chi l'ha vista, difficile per chi l'ha giocato, per chi l'ha dovuto gestire da allenatore? Beh, molto difficile. Non era facile riprendersi dopo aver perso 3-0 due settimane fa, in più c'è stata la pausa, abbiamo un po' caricato le batterie e soprattutto c'è capitato subito un cliente molto difficile, che questa è una squadra che da prime posizioni ha avuto difficoltà all'inizio dell'anno, infatti non dimostra il fatto che noi all'andata avevamo preso sotto dell'oro, ecco. Beh, avete restituito il 3-1 che avevate ricevuto all'andata. Un pausa che, come dicevamo, è stata forse più utile che dannosa, perché le ragazze, ne avevamo parlato con Tattu durante la trasmissione in radio, erano sembrate un po' scariche a Montecchio. Sì, non tanto secondo me fisicamente, ma più che altro mentalmente. Ci siamo resi facilmente, cosa che a noi non era mai capitato in tutto l'anno. È capitato, è stato un incidente in percorso, però abbiamo sempre perso con una squadra forte, una di quelle candidate per vincere il campionato, diciamo. Oggi invece la squadra è sembrata partire ancora con un po' le paure di due settimane fa, si è poi pian pianino un pochino ripresa, ha inseguito per tre set, poi nel quarto ha preso lei il ruolo della lepre, è riuscita a mantenere sempre, giocando punto a punto, però quel punto 2 di vantaggio che alla fine sono poi dilagati nei sei punti. Certo, è vero, però penso anche che quando vinci il set che sei dietro nel punteggio dimostri forza, attaccamento al punto e la squadra è viva, questo è molto importante. Quindi un ottimo risultato in vista delle ultime quattro partite, perché questa era la quinta ultima, un'ottima prova dal punto di vista sia fisico che mentale per la tenuta della squadra e per la ripresa dopo la batosta di Montecchio. Certo, questo è sicuro, questa è una vittoria che ci voleva per rimettersi in piedi, sia mentalmente che anche a livello di gioco. Abbiamo fatto qualche cambiamento, stasera ha portato qualche frutto, ora siamo in fase di miglioramento e speriamo il bene per le prossime partite. Sicuramente fino alla fine ci giochiamo tutto.